56 nuovi positivi in provincia di Agrigento su 229 tamponi effettuati, altre 4 persone ricoverate in ospedale ed un'altra vittima a Sambuca di Sicilia, dove i decessi adesso sono saliti a 13. Questo è il quadro della situazione nell'Agrigentino che viene fuori dal consueto report diffuso dall'ASP. Non solo i contagi ma anche i ricoveri non accennano a diminuire e sta letteralmente scoppiando ormai il San Giovanni di Dio di Agrigento, dove adesso le persone ricoverate sono 37, 3 in più rispetto al giorno precedente. Ma a rendere la situazione ancora più complicata ed allarmante all'interno del nostro comi Agrigentino pare siano anche i casi di positività al Covid che sarebbero stati riscontrati tra il personale medico ed infermieristico. Tornando ai ricoveri, l'altro soggetto Agrigentino ricoverato nelle ultime ore si trova invece al Sant'Elia di Caltanissetta, 16 pazienti Covid al Giovanni Paolo II di Sciacca, 16 le persone nella foresteria, 2 in più rispetto a ieri. Sul fronte dell'andamento epidemiologico, dopo diversi giorni senza nuovi contagi, l'ASP oggi riporta per la città di Sciacca due nuovi casi ma anche una guarigione. Gli attuali positivi, in base ai dati riportati nel bollettino, a Sciacca adesso sono di nuovo 30. Due nuovi casi anche a Ribera per un totale di 35 positivi. Altre 4 persone positive al Covid a Santa Margherita Belice, dove gli attuali positivi adesso, secondo l'ASP, sono 57. Ma sia nel caso di Ribera, sia per ciò che concerne la situazione di Santa Margherita Belice, i dati riportati dall'azienda sanitaria provinciale non coincidono con quelli comunicati invece dai sindaci. Migliora la situazione a Sambuca di Sicilia, dove altre sei persone hanno sconfitto il Covid e pertanto il numero degli attuali positivi è sceso a 62. La diffusione del virus non si arresta a Canicattì, comune agrigentino con il maggior numero di casi, altri 8 nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 121. Ma è boom di contagi anche a Palma di Montechiaro, più 13 per un totale di 40 attuali positivi. Quattro nuovi casi a Raffadali, dove le persone positive adesso sono 24. A Grigento raggiunge quota 71 con due nuovi casi nelle ultime ore. A Menfi, Montevago e Caltabellotta situazione invariata rispetto al giorno precedente, rispettivamente con 11, 7 e 10 persone che risultano contagiate.